Benvenuti a Cronos appunti da un libro e benvenuta ad Alice Basso che oggi è qui con noi. Ciao Alice! Allora di Alice oggi parleremo e parleremo del suo libro Il grido della rosa. Mi ha fatto morire dal divertimento Alice, ma prima dico chi sei tu. Allora, vivi e lavori a Torino, ma ho scoperto che sei milanese tra l'altro, o vicinanze Milano, quindi vicino a me. Alice ha lavorato e lavora per tante case editrici, come tradutrice, come editor, ma di lei lascio dire due cose che leggo perché mi sono fatta un sacco di risate. Vediamo chi è Alice Basso e dice nel tempo libero finge di avere ancora vent'anni, canta e scrive canzoni per un paio di rock band, suona il sassofono, ama disegnare, cucina male, guida ancora peggio e di sport nemmeno a parlarne. Sei tu Alice? Assolutamente! Alla tua descrizione! E questo divertimento si trova anche nei tuoi libri. Alice ha creato una prima serie meravigliosa di Vanni, questa editor un po' black, diciamo, è Alice Vestiani Nero, indimenticabile, con rossetto viola, e poi crea una seconda serie di quest'altra ragazza, Anita. Poi vedremo le due insieme. Nel grido della rosa la storia, Alice parte, c'è questa ragazza Alice e soprattutto vive negli anni 30, epoca fascista, poco sopporta le limitazioni dell'epoca, decide di lavorare invece di sposarsi subito col suo Corrado. E lì lavora per una casa editrice, che è strano anche lei, vero Alice, e così inizia a scoprire questi racconti gialli, americani, dove le eroine sono donne. Dopodiché, però, è tanto appassionata che finisce per, anche lei, fare un'indagine alla fine, quando si scopre una ragazza madre morta nella sua città. E si infila in rischi e in ambienti, diciamo, poco adatti a lei. E la cosa va avanti con questa sua sete di indipendenza e di libertà. Allora, innanzitutto, Alice, questa ambientazione negli anni 30 che tu guardi attraverso lo sguardo libero di Anita, il tuo è estremamente ironico e divertente. Come questa scelta e come la vedi questa ambientazione? Ah, guarda, a me è sempre... ho sempre avuto il sogno di scrivere qualcosa che avesse un'ambientazione storica, con tutte le difficoltà del caso. Perché poi, sia che tu desideri scrivere una commedia di ambientazione storica, un giallo di ambientazione storica, oppure un vero romanzo storico, come ci si aspetta che sia un vero romanzo storico, sai che devi studiare, devi documentarti, devi ricreare, anche perché quello è il bello. Se no, cosa ambienti un'altra epoca a fare, se non per dare quel gusto lì, no? Ricreare quell'atmosfera e cercare di portare te stesso in primi, se poi lo spettatore è il lettore, nell'ambiente che hai scelto. Ho scelto, in realtà il 35 è un anno che ho scelto abbastanza per una serie di fatti concatenati, perché volevo ambientare, volevo raccontare una storia che avesse per protagonista una datilografa e un giallista, perché volevo raccontare il potere emancipante della datilografia, nella prima parte del Novecento, e i disagi che i miei colleghi giallisti, se posso dire così, vivevano durante il fascismo, perché avevano un sacco di limitazioni a cui doversi sottoporre. E quindi bisognava scegliere un anno in quelli lì, uno del ventennio. E ho scelto il 35 perché l'ho trovato un anno estremamente particolare, in cui si è appena all'orlo del precipitio, come dire, no? Alla fine del 35 c'è l'invasione dell'Etiopia e da lì in poi gli eventi prendono una piega che accelera sempre di più e porta, come sappiamo, alla guerra, in ultima analisi. Però nel 35, in quel momento lì in cui si ambienta la mia storia, nell'estate del 35, siamo come in cima a una cuspide e stiamo per precipitare, ma ancora non lo sappiamo, e c'è una costera molto interessante da descrivere. E così, ecco, è arrivato il 35 e con lui è arrivato tutto il macello che è documentarsi sulla Torino dell'epoca e cercare di renderla in maniera efficace. Esatto, è arrivato il 35 ed è arrivata Anita, questo personaggio che ha delle caratteristiche, secondo me, simili anche con Vanni, però ovviamente con Vanni dell'altra tua serie, ma ovviamente ambientati in momenti diversi, e quindi che si possono esprimere anche in maniera diversa. Però è un personaggio interessantissimo, molto libera, molto indipendente, che si ribella in maniera anche divertente ad alcune imposizioni. Chi è Anita? Sì, Anita è un personaggio che io ho inventato in primis per far risale a me, perché io dico sempre che uno scrittore, specialmente uno scrittore di serie, deve essere stupido se si inventa dei personaggi che non gli stanno simpatici, perché poi deve portarseli dietro per anni, no? Nel mio caso, per esempio, con la prima serie, e questo sta prendendo la stessa piega, ho fatto uscire un libro all'anno, quindi cinque libri in tutto, cinque anni. C'è che vuole passare cinque anni con un personaggio che non sopporta? Antipatico! Esatto, esatto, io voglio circondarmi di persone simpatiche, no? E quindi, prima di tutto, i miei personaggi cercano di farmi di simpatici. E Anita l'ho fatta a buffa, è una bellissima ragazza innanzitutto, però è una bellissima ragazza che sa che la bellezza non è tutto, a differenza di chi la circonda, che invece tende a identificarla col suo aspetto fisico, no? A identificare lei, Anita, con questo aspetto fisico e quindi a considerarla fondamentalmente una bella oca, no? Una che non ha bisogno di essere altro che non bella. Ma Anita sveglia e allora decide di marciare su questa cosa. È forse l'unica freccia che il destino ha messo al suo arco, per una ragazza del 35 non è che ci sia molto, eh, su cui, insomma, vivere di rendita. E allora decide che, beh, se il mondo la vede come una bella oca, lei ne approficherà. E quindi ci sono un sacco di scene in cui Anita si finge più stupida di quello che è per far abbassare la guardia e i suoi interlocutori e giocare su questa sua apparente, come dire, non minacciosità, ecco. E mi diverto veramente moltissimo a descrivere queste interazioni e questi momenti. Io voglio molto bene ad Anita perché mi fa molto riuscire la persona di questa spera che funziona. Davvero un personaggio straordinario ed è molto bella anche l'ambientazione nella sua famiglia. Io devo dire che sono morta da ridere con questa mamma Mariele che per fare bella figura con la famiglia del fidanzato di Alice, e come ti è venuta questa cosa, fa il sugo di lepre senza lepre. Adesso spiegami. Eh sì, sì, questa è una delle cose, ah, perché abbiamo parlato dell'ambientazione, no? L'ambientazione è fatta di dettagli. Il romanzo, la storia, sta nelle piccole cose quotidiane. A poco serve conoscere i grandi fatti, la legislazione, gli eventi bellici, queste cose, no? Quando vuoi descrivere, sì, serve, naturalmente è indispensabile, però il gusto della storia te lo danno i dettagli. Allora questa cosa del sugo di lepre senza lepre è presa dalle vere ricette di Petronilla, che andava fortissimo in quegli anni, era una rubricchista della Domenica del Corriere, che insegnava alle Massai, ma poi è un personaggio famoso, insomma, spero che già almeno se ne sia sentito parlare, perché è stato un pilastro. Era una donna colpissima, laureata in medicina, la prima pediatra italiana, e però sul giornale scriveva dando consigli alle Massai. E questi consigli erano tutti finalizzati a farle cucinare in maniera, come si può dire, di rappresentanza, no? A renderle in grado di cucinare il desinaretto per far fare bella figura al marito quando veniva il caputito a pranzo, no? Queste cose, ma col minimo indispensabile della spesa. E le Massai la adoravano per questo, la amavano con le mie marie. La mamma di Anita, che è una di queste Massai, che devono tirare la cinghia, ma ci tengono a fare bella figura, ma ci tengono alle apparenze, ovviamente è idolata a Petronilla, perché non era esattamente... Certo, è il suo riferimento, diciamo, familiare. Senti, e Anita, torno su Anita un attimo, ha due uomini, diciamo, importanti nella sua vita. C'è Corrado, questo giovane ottone, che è il fidanzato, e poi abbiamo questo scrittore, Sebastiano Sattascona. Com'è il rapporto di Anita con questi due personaggi maschili? Corrado ce lo portiamo dietro dall'inizio, insomma, lo incontriamo insieme ad Anita, che sono già fidanzati, e la storia inizia col primo volume, lo dico per chi ha sentito... Esatto, che diciamo anche, come si chiama, il morso della vipera. Esatto, è il primo della serie, il grido della rosa di cui stiamo parlando adesso è il secondo. Però il morso della vipera inizia con Anita, che va a farsi fare la proposta di matrimonio, perché sa che arriverà quella proposta, sa che arriverà proprio quella sera, da Corrado, che è il suo fidanzato, sta per diventare il suo fidanzato ufficiale. Un ottimo partito, un Marcantonio biondo. Ha un problemino, ricco anche, ha un problemino. È un po' troppo condiscendente nei confronti del sistema, insomma, del governo. Non perché sia fascista, veramente, come col significato che oggi diamo alla parola, è esposta, sapendo come è andata a finire, ma con l'ingenuità del ventenne che non si ricorda come sono saliti al potere e non sa come andrà di lì a pochi mesi, che piega prenderà la storia di lì a pochi mesi, per non dire anni. Di conseguenza, Corrado è un buono, insomma, è uno finito. È un buonaccione, diciamo. Sì, esatto, esatto. Infatti, Anita gli vuol bene, non si può dire che. Però poi, Anita gli dice, come dicevi tu all'inizio, gli sta fa un compromesso. Sì, ti sposo, ma prima fammi andare a lavorare, perché se non lo faccio adesso non lo farò mai più. Perché poi mi tocca tapparmi in casa, far figli e, ciao, la mia vita lavorativa non avrà più ragione di esistere né possibilità. Fammi lavorare sempre qui. Corrado al fetta, che è buono. Anita va a lavorare in questa casa editrice dove incontra Sebastiano. E Sebastiano è tutto il contrario. Sebastiano è uno che è dovuto scendere a compromessi con il sistema per poter pubblicare questa rivista di gialli americani. Sia gialli che americani sono due cose che al regime piazzano poco. E però per farlo, appunto, ha dovuto scendere a qualche compromesso. Tra l'altro, per una serie di circostanze, anche lui è fidanzato addirittura con la figlia di un gerardo. Però Sebastiano è tutto diverso. È uno che ha le sue idee, è un uomo evoluto, è uno che ama tantissimo la letteratura, ama questa letteratura americana. Sì, quindi lei vive questo contrasto tra questi due uomini così diversi. Senti, ma prossimamente noi ritroviamo Anita o ritroviamo Vani? No, ritroviamo Anita. La saga di Vani Stark è finita col quinto libro e adesso è il momento di Anita. Bella parla e anche spero di produrre cinque libri. Oh, fantastico, Alice. Senti, ti ringrazio tantissimo. Ricordiamo a tutti questo meraviglioso romanzo Il grido della rosa, scritto da Alice Basso, edito da Garzanti. Invitiamo tutti a leggerlo e allora ci ritroveremo con la prossima Anita, Alice. Grazie. A presto, grazie mille. A presto, ciao. E Cronos vi dà appuntamento al prossimo libro. A presto, grazie mille.